Un convegno sul trattamento dell'infedema a Galatina, tutto questo nell'hotel Hermitage sulla strada provinciale 362 Galatina Lecce, in collaborazione con Sanitaria Villa Bianca e la palestra Zenshin di Antonio Buono. Il moderatore dell'incontro è l'avvocato Vincenzo Russo, il segretario della SD Zenshin. I redatori sono stati ospiti e per quanto riguarda questo convegno la dottoressa Daniela Greco, il professor dottor Paolo Gennaro, il dottor Roberto Bartoletti e la dottoressa Giovanna Coccioli.